benvenuti a tutti a quella che a tutti gli effetti la prima recensione che pubblico sul mio canale oggi andiamo a vedere un prodotto rilasciato dalla Yolo Park che è una ditta decisamente giovane che si è affacciata sul mercato con un prodotto un po azzardato per quello che riguarda almeno il mio punto di vista che andremo a vedere poi in maniera più dettagliata tra qualche secondo oggi invece andiamo a vedere un nuovo prodotto sempre rilasciato dalla Yolo Park in concomitanza con l'uscita del nuovo film dei Transformers che qui in Italia hanno chiamato semplicemente il risveglio modello di Optimus Prime si presenta come model kit ma non un model kit standard un qualcosa che è una via di mezzo tra un model kit e un action figure vado a spiegare meglio la cosa questo è il box quindi grafica molto curata molto ben fatta il logo che riprende ovviamente il titolo originale del film e dietro quelle che sono le immagini obbligatorie del del prodotto finito e uno schematico di quello che è l'assemblaggio ora come dicevo piccolo passo indietro la Yolo Park è una ditta giovane che si è presentata con il suo prodotto di lancio un model kit ispirato a Optimus Prime visto nel film Bumblebee ci tengo a precisare che sono comunque tutti i prodotti ufficiali su licenza questo addirittura è marchiato asbro quindi riprendono tutto quello che è l'aspetto originale i colori originali e anche i nomi dicevo presentati sul mercato con un model kit importante parliamo di circa 30 delai di pezzi oltre 30 centimetri d'altezza completamente articolato ma indubbiamente un modello che non è adatto a chi si affaccia al modellismo per la prima volta quindi un prodotto destinato più a diciamo modellisti esperti per quanto riguarda la lavorazione delle parti la difficoltà dell'assemblaggio e tutto il resto ora questo è un prodotto che si discosta dal predecessore la Yolo Park ha fatto uscire successivamente al modello dell'Optimus Prime di cui accennavo poco fa un secondo modello sempre ispirato a il film di Bumblebee che è lo Shockwave dei Decepticon modello anche quello molto molto scenografico molto grande importante ma che condivide con il precedente molte parti della struttura interna se non addirittura un buon 90% di quello che è il frame interno lo scheletro interno ora parliamo ovviamente di prodotti che hanno un prezzo elevato quindi oltre tranquillamente oltre i 200 euro per quanto riguarda questo questo è un prodotto che con un pizzico di fortuna si può trovare anche al di sotto dei 50 euro e tra poco andremo a vedere anche il perché di questa differenza di prezzo e del perché non è un model kit standard come era il primo aperta la scatola questo è ciò che ci troviamo davanti quindi il suo blister con le parti già pronte per essere assemblate quindi non ci sono telai non ci sono parti che vanno lavorate con attrezzi da modellista è già tutto pronto l'assemblaggio è un qualcosa di basilare diciamo elementare quindi un cosa che porterà via veramente una manciata di minuti quindi questo già è un tipo di lavoro che può essere adatto a chiunque per il semplice motivo che non è non necessita di attrezzi per essere per essere lavorato le parti sono già pronte la differenza diciamo principale con il precedente è che questo modello nello specifico è interamente realizzato in pvc quindi non ha parti in metallo cosa che per esempio succedeva con il primo modello rilasciato dove tutte le giunture interne spalle e bacino erano costituite da parti in metallo davano una solidità in più una sicurezza in più per quanto riguardava gli snodi questo invece no è interamente in pvc ed eccolo qua come avevo detto l'assemblaggio è un qualcosa di veramente basilare elementare e ci troviamo con un modello di circa 20 centimetri d'altezza che comunque sia è ben fatto alle spalle invece il model kit principale sempre della yolo park che era l'optimus prime di cui parlavo prima ovviamente il confronto è impietoso a dir poco ma come detto parliamo di una tipologia e un prezzo completamente diversi considerate che qui ci troviamo di fronte a un model kit atipico in quanto non necessita di colla non necessita di attrezzi ed è comunque dalle dimensioni generose perché sono comunque 20 centimetri d'altezza completamente articolato ma ha a mio avviso qualche piccolo difetto qualche piccola svista che andremo a vedere adesso grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.